...di Rocca Monfina di Vippo e volevamo chiedere al vice sindaco appunto se le condizioni meteorologiche avverse di queste ultime ore comprometteranno in qualche modo lo svolgimento della Sagra della Castagna di Rocca Monfina. Buonasera, ogni anno a Rocca Monfina durante la Sagra quasi sempre capita che il tempo non ci accompagna, però quest'anno diciamo solo la giornata di sabato porta temporali come sta accadendo in questo momento, comunque l'amministrazione insieme con la Prologo ha deciso di non rinviare la Sagra ma aumentare i giorni della manifestazione, quindi domani si andrà avanti con la Sagra e con il programma che c'era già e poi ci saranno altri due giorni, il giorno sabato e domenica prossima che praticamente gli spettacoli previsti per il giorno sabato saranno rinviati a sabato prossimo. domani pomeriggio invece il convegno in collaborazione con l'associazione Rotaract sia di Capo che di Cesarunca si farà comunque, si verrà fatto comunque e all'interno di questo convegno noi vogliamo esaltare le potenzialità dei giovani come l'esempio della nostra amministrazione che in poco tempo sta cercando di far rinascere Rocca Monfina, insieme a Rotaract che è un'associazione che si occupa di questo, di valorizzare le potenzialità dei giovani, vogliamo far diventare Rocca Monfina come esempio per tutta la nostra provincia e non la nostra regione. Domani avremo anche la visita del Presidente della regione De Luca, verso l'ora di pranzo, quindi questo a noi fa molto piacere che il nostro Presidente ci tiene in considerazione. quindi vi aspettiamo tutti quanti numerosi alla Catera delle Castagne di Rocca Monfina, sia domenica che sabato e domenica prossima. Va bene, quindi Vice Sindaco, quindi diciamo tutta la manifestazione è al sicuro, sia perché appunto come ne diceva le condizioni meteorologiche dovrebbero andare migliorando per quanto riguarda la giornata di domani e anche perché comunque in caso qualche manifestazione in programma dovessi saltare verrà ripetuta nella prossima settimana. Ma la manifestazione di domani sera, come dice il calendario, cioè l'esibizione dei bottari, ci sarà o nonostante il maltempo, qualora dovesse piovere? Allora, qualora dovesse piovere la manifestazione non ci sarebbe la scossa da domenica prossima allo stesso orario. Le passeggiate dell'Associazione Work in Progress sono lo stesso, quindi diciamo dal metro dell'aeronautica militare domani dovrebbe essere nuvoloso, non porta precipitazioni. Quindi ci stiamo attenendo a quelle previsioni in mezzo là, però naturalmente noi ci prepariamo anche per scostare le manifestazioni di domani. In poche parole, i stendisti che vengono anche da lontano, ragazzi che vengono da lontano, pure tutte le perdite turistiche che vengono da molto molto lontano a visitare il nostro paese devono comunque stare tranquilli perché se in caso domani in tempo peggiori c'è comunque il sabato e domenica prossima per venire a Roccamontina. Va bene, grazie Vice Sindaco. Vuole lasciare i lettori con un messaggio rinnito alla partecipazione della manifestazione? Noi vi invitiamo a visitare il nostro paese perché è uno dei paesi più belli della nostra provincia, Roccamontina è l'isola felice della nostra provincia di Casetta, uno degli ultimi paesi dove praticamente si può ancora vivere tranquillamente. Grazie Vice Sindaco.